Dopo mesi di silenzio si torna a parlare della FIMER di Terra Nuova Bracciolini. I lavoratori, le organizzazioni sindacali, il Comune e la Regione Toscana si sono detti preoccupati per lo stallo nel quale versa da troppo tempo l'avvertenza e pretendono chiarezza. Siamo in attesa che venga ufficializzato l'interessamento di un'offerta vincolante di un fondo con caratteristiche industriali, hanno spiegato soggetto che, a seguito dei doverosi approfondimenti, potrebbe avere tutti i requisiti, sia economici che di possibile prospettiva industriale, atti a garantire l'uscita dallo stato di crisi. I lavoratori, le loro famiglie e tutta la comunità, assieme alle istituzioni e alle organizzazioni sindacali, sono stanchi e pretendono chiarezza, se legge ancora nella nota congiunta. Se, come troppe volte annunciato e mai verificatosi, ora questo soggetto esiste, riteniamo che debba essere ufficializzato nelle sedi deputate per l'interesse di tutte le parti coinvolte e per avviare gli approfondimenti necessari a conoscere e condividere il percorso da intraprendere il più velocemente possibile. Intanto i lavoratori sono in stato di agitazione permanente ed è stata convocata un'assemblea pubblica per venerdì 21 aprile che si svolgerà fuori dai cancelli dello stabilimento.